Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come cancellare tutte le cache, tutti i file temporane su Windows 11, molto semplici, con un'applicazione molto leggera, veramente leggera, e ti libera veramente tanto spazio. Ho fatto questa guida mesi fa, però l'ho voluta riportare, ma questa volta faremo una vera pulizia su Windows 11, quindi iniziate prima a scaricare questa applicazione che trovate in descrizione, quindi cliccate su quel link e vi porterà su questa pagina. Pacchetto di installazione, l'applicazione si chiama Bleachbit, quindi Linux o Windows, io metto su Windows, Bleachbitinstaller.exe, ecco che è partito il download e cominciate a scaricare ed installare. Ecco l'applicazione, andiamo sull'applicazione Bleachbit, quindi per fare veramente una vera pulizia mi raccomando non sbagliate a cliccare questi tasti perché se no qua vi cancella proprio tutto, cioè proprio tutto, vi fa anche una pulizia del disco, quindi state attenti. Quindi qua su Discord togliete no, Internet Explorer potete anche metterlo, cronologia di download, scansione approfondita, file temporanei, sistema, file temporanei, e basta, e fate pulisci. E mi ha rimosso più o meno 5,59 giga, beh, file eliminati 1471, quindi ragazzi io vi consiglio di farla tutti i giorni questa pulizia sull'applicazione Bleachbit, oppure se avete, intanto vi ha cancellato anche le cartelle file temp che trovate su, su, un attimo andiamo su temp, questa qua. Va bene, va bene, va bene, si, temp, ed eccola qua. Ha cancellato tutti i file veramente molto grandi, quindi adesso cancello pure questi, cancello tutto. Ecco, non ha potuto eliminarli, neanche l'applicazione non è riuscita ad eliminarli. E vabbè, comunque ragazzi, grazie a tutti per questa visione, una piccola guida su come pulire le casce, tu ti fai il temporaneo e fare una vera pulizia. Su Windows 11 noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao.